Storico voto in Irlanda vince il SIA alla legalizzazione dell'aborto e all'abrogazione dell'attuale normativa, una delle più restrittive d'Europa in materia sull'interruzione di gravidanza. Secondo gli exit poll, il SIA ha vinto con il 68% dei voti contro il 32% che si è dichiarato a favore dell'attuale normativa. Grazie a tutti coloro che hanno votato oggi, la democrazia è in azione, sembra che faremo la storia. Ha scritto in un tweet il premier Leo Varadkar che ha sostenuto la riforma. Tra i votanti più giovani, 18-24 anni, la percentuale più alta di favorevoli, l'87%. La legge attualmente in vigore in Irlanda consente l'aborto soltanto in pochissimi casi, tra cui il rischio per la vita della madre. Con l'abrogazione dell'articolo 8 della Costituzione irlandese, l'interruzione di gravidanza sarà permessa entro le prime 12 settimane e tra la 12esima e la 24esima in circostanze eccezionali.